Tutovic, il football giulì, come si è comportato? Allora, è il classico giocatore, micromovimenti molto bene, velocissimo, non ho stretto veramente tanta roba Una discreta finalizzazione e un ottimo sprint boost Però come potete ben immaginare, forza fisica completamente nulla Quindi appena lo sfiora non vola via, in allungo non c'ha tantissima velocità Per 100k vi posso dire, ci può pure stare se vi serve una carta economica Ma non è niente di che, quindi come voto gli diamo un 7 Stile intesa consigliato, cacciatore per bustare le velocità a tiro